Questa è per te? È stata una sorpresa o pensavi di essere la favorita? No, per me è stata una sorpresa perché non pensavo di vincere, perché non conoscevo le avversarie ed erano molto forti. Sì, è molto sorpresa che questa raccoglia non conosceva le altre ragazze e è sorpresa. Come è andata per te in generale? Bene, c'era molto vento ed è stato faticoso. C'è un vento, un forte vento, ma è molto bene. Ti piace il giro qua? Sì, non c'erano molte curve, è bello. Poco tecnico. Il circuito è molto facile ma non tecnico. Sì, non c'erano molte curve, è bello.